Il nostro intervento, rispetto a tutti che ci sono stati più o meno, più o meno, quindi sono successivi, è di carattere stesso. Noi, che si troveranno, insomma, per quello che mi consiglio di congiungere, per uscire, così bene, ha tentato a dare la risposta proprio ai miei problemi. Noi abbiamo considerato che, per oggi, sono un'indicazione, troppo, non unicatoria, hanno tentato di vivere nel nostro territorio, con un stato straordinario, orario, il gruppo di progettazione dell'Italia, con che ha salvato il tempo, questo. Alla luce di quanto sta carendo, noi non ce l'ho affrontato, uno di questi consigli, uno di questi consigli, uno di questi consigli, uno di questi consigli, uno di questi consigli. dei grandi puntuali, sui territori, che iniziavano un plus di abitazioni e un grande legge, si accettano in questa città. Il gruppo dei propri pubblici, di nuovo testo, accettano che nella nostra città, non dovessero essere più realizzati tutti gli obiettivi e una crisi legge. Questa impostazione, chi un'annunzio non si manda da vedere a questa amministrazione, o meglio a chi regge la politica. Per questo momento la proposta del Partito Democratico vi fa ragionare più in tempi brevi agli stessi editatori di nostra città. Oggi la matrimonializzazione del Partito Democratico è bene di ottare i danni da gare sui punti che abbiamo una volta di conti alle terrena, circa 500 mila euro, buttate in città, di questo posto di politica, e non è proprio in mezzo. In tattie, così oltre a uspitalia, la tenata di più c'è l'aspetto del territorio, e di più c'è l'aspetto del territorio, e di più c'è l'aspetto del territorio, e di più c'è l'aspetto del territorio. e di più c'è l'aspetto del territorio, come diceva la politica, e se ne leggiamo non c'è l'aspetto. Non c'è l'aspetto del territorio, non c'è l'aspetto, non c'è l'aspetto, non c'è l'aspetto, non c'è l'aspetto. Faccio domande, la legittima adottava al commissario, da disminiatore, da disminiatore, da disminiatore, commissario spraudinario Ronaldo, da un stadio a Tà. non è necessario dieci nell'abitati dall'abitati da料 zapaba glanzari al ugualiente di Tà. non solo che non è stato fatto, ma non si è voluto facciare neanche a fare ricorso a un rispettato, segnale a questo che nulla sta avvenendo per caso, la decisione del territorio edificando per due e dovanta per cento, pare ancora capire, e questo è il termine di interventi che mi hanno cresciuto. Ma è così, se i progettisti hanno avvenuto i nostri Presidenti hanno già trovato bene, non considerando i verleti a costruire successivamente rilasciati le attività commerciale e industriali, di fatto sapete tutti che sono Presidente. Oggi, se il Dallorazzo viene a provoci con la sua ragione, con la sua ragione, con la sua rilasciata, si può essere un Presidente, stabilendo soglie di monumentali e superficie a usse da quanti modi agri sul territorio. Non sapete qualche tonno? Non sapete l'impatto sul territorio? Non avete presentato uno strascio di una fatura? Sicuramente ce ne e saranno altre, saranno presentate, se non so, non so se non so se ne vedrete, che si verrà tutta. A questo punto, il rischio è questo, come al caso della tenita e della comunità giustatica, dove è capato in funzione di risposta da dare a tutti. Grazie 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 a tutti.